Luke, come si fa a sentirsi a casa in un paese diverso da quello di origine? La separazione degli amici, famiglie e posti del cuore. Bella domanda, molto molto bella domanda. Credo che la mia esperienza sia molto individuale. Questo dovremmo chiederlo a Mr. Reset, tra l'altro, magari rispondere a lui. La mia esperienza è particolare. Primo perché comunque ero stato già 5 anni a Milano, ero già andato via da Roma, quindi da lontananza dai luoghi d'origine. Quello è stato lo scoglio più duro da superare. Molti legami, ho ancora molti legami giù a Roma. Sono 13 anni che non sto più a Roma, quasi 14. A luglio diventano 14 anni che non sto più a Roma. È ovvio che cominciano ad essere un po' più sbriciolati. Togliamo la mia famiglia d'origine, quei tre amici cari che sento ancora con una certa regolarità. Roma la sento distante, non mi manca più Roma. Roma non mi manca per niente, però aspetta. Roma città mi manca tantissimo. Se io torno a Roma, a un certo punto, in quei 3-4 giorni che sto lì, che fanno il tour dei forze dei parenti, devo trovare mezza giornata per correre, andare al Colosseo, andare al centro e vedermi Roma. Perché Roma è una roba... Roma è Roma, non... Sono romano e... E da quando Svevo Moltrasio ha messo tutti i suoi video su Roma, ormai... Lagrimuccio ogni volta. Non mi mancano per niente i romani. Il romano medio non mi manca per niente. Girare per Roma, vedere strisce pedonali che non esistono, gente che passa col rosso, arrogante... Il romano medio non mi manca per niente. Quindi non tornerai mai a vivere a Roma, credo. Poi ho fatto il salto a Milano, ho vissuto 5 anni a Milano, non l'ho mai sentita mia come città, ho legami anche lì, che tuttora sento. Però quel salto lì è stato duro. Facevo spesso su e giù con il... Prima del Frecciarossa c'era l'Eurostar. Costava un fottio, costava penso più del Frecciarossa di oggi. Il mio stipendio era quello che era. Quando stavo a Milano, per cui diciamo che Roma-Milano è stato un salto molto duro. Milano-Zurigo è stata una passeggiata. Zurigo era veramente il minimo sindacale dell'espatrio. Forse dopo Lugano. Andare da Milano a Lugano è l'espatrio che non è un espatrio. Milano-Zurigo è stato un espatrio minimo sindacale perché tutto già organizzato. Google ti dice guarda ecco ti paghiamo la relocation, ti diamo tutto il traslogo, viene gente che ti impacchetta anche la roba, cioè non devi neanche impacchettare la roba, che poi che avevo, solo libri e board games, il resto non ha portato nient'altro. E poi ti diamo due mesi, ma se non ce la fai anche tre mesi di casa, ti paghiamo noi l'affitto per tre mesi mentre ti cerchi un affitto. Ti diamo una persona che con te viene e ti aiuta a vedere le case e ti fa scrivere lettere di raccomandazione in tedesco perché la situazione immobiliare a Zurigo è difficile, trovare affitto non è facile. E in più ecco anche 2000 franchi per eventuali tips ai mover, 2000 franchi le do come mance ai trasportatori, già lì faceva ridere. Quindi diciamo che è stata una relocation molto facile dal punto di vista logistico, dal punto di vista umano a Milano avevo così, mi ero fidanzato da circa un anno con quella che è adesso di mia moglie, e avevo altri amici, facevo teatro anche a Milano, avevo gruppi, però anche lì Zurigo-Milano l'ho fatta tante volte perché tornavo un weekend io e un weekend mia moglie, siamo stati per un anno e mezzo a distanza. Quindi non lo so, non c'è stato un taglio netto. Se avessi deciso di andare a Mountain View, quando ho fatto i colloqui in Google, li ho fatti in California, forse sarebbe stato un taglio molto molto più duro. Qui stesso time zone, stesso clima di Milano perché alla fine Zurigo è simile, più bello, è simile a Milano. Tantissimi italiani, non lo so, sono veramente un caso di espadrio troppo facile, la Svizzera è un espadrio molto facile.